Ciao a tutti, un paio di giorni fa avevo fatto un video brevissimo dove rispondevo alla domanda come faccio a trasformare una fotografia in un disegno al tratto. Io l'avevo fatto per rispondere con il metodo più veloce possibile, insomma ho mostrato un paio di funzioni di Clip Studio Paint che permettevano di fare questo alla svelta. Mi è venuto il dubbio che qualcuno potesse prenderlo per un'indicazione effettiva su come disegnare utilizzando una fotografia di riferimento. No, si trattava semplicemente dell'illustrazione di come funzionava quello strumento che si chiama Extract Line che si trova qui in Clip Studio Paint e quindi di come poteva essere utile ma in nessun modo voleva essere una lezione su come trasformare, come fare un buon lavoro insomma, perché infatti il risultato era piuttosto scarso. Allora ho pensato che forse valesse la pena far vedere un attimo come effettivamente a volte io utilizzo delle fotografie per i miei sfondi. Ovviamente questo è il metodo che io utilizzo e ognuno può fare come preferisce insomma. Allora questo è un esempio di uno storyboard dove ho utilizzato una fotografia come sfondo è una cosa che faccio, soprattutto in fase di storyboard è la cosa migliore nel momento in cui si ha delle fotografie soprattutto se la sceneggiatura richiede dei posti ben precisi. Spesso nei miei storyboard ci sono situazioni da genere possono essere fotografie che ho fatto io, possono essere fotografie reperite online e ovviamente non sto qui a dirlo ma dovete avere il permesso di fare quello che state per andare a fare quindi utilizzate fotografie di pubblico dominio o marcate per poter essere riutilizzate oppure compratele fatevele da voi però insomma ovvio che la fotografia deve essere una fotografia della quale avete i diritti di fare quello che state per fare. Altrimenti anche dei rendering tridimensionali se avete realizzato il vostro sfondo con un programma di modellazione 3D anche allo stesso modo si procede se si è fatto un rendering almeno io procedo quando faccio degli sfondi con un programma di modellazione 3D allora in questo caso c'è appunto una fotografia io la fotografia è stata mascherata nelle parti che non mi interessano e allora come procedo? Prima di tutto vado a duplicare per sicurezza il livello della fotografia, lo piazzo sopra dove andrò a fare gli inchiostri, levo la visibilità alla fotografia originale, porto al 100% perché di solito negli storyboard abbasso l'opacità delle fotografie la riporto al 100%, levo momentaneamente, anzi levo del tutto la maschera che avevo fatto magari già che ci sono butto via il resto della fotografia che non mi serve e vedo il risultato che mi dà intanto il filtro che abbiamo visto nell'altro video come vedete il risultato è uno schifo perché la fotografia è a bassa risoluzione e per la maggior parte questi tratteggi si tratta di non di bordi ma dei bordi dei pixel perché i pixel sono così grossi che per Clip Studio Paint diventano delle informazioni e quindi ottengo tutte queste linee verticali e orizzontali quindi prima di tutto quello che vado a fare è applicare un filtro di sfocatura gaussiana alla fotografia, se voi avete lasciato il filtro extract line l'anteprima vi mostra già il risultato quindi con una sfocatura gaussiana in pratica vado a liberarmi dei pixel ovviamente perdo di qualità ma la qualità comunque non c'era do ok, adesso ho un risultato nel quale perlomeno non ci sono più i pixel ovviamente è orribile allo stesso modo prima di tutto levo il riempimento in nero perché nel caso di questo disegno non mi serve dopodiché metto un attimo di spessore in più, lo porto a 1 la soglia di rilevamento del bordo provo con dei numeri maggiori per avere meno righe oppure meglio ancora proviamo un attimo a levare, lo rimetto dove era levo alcuni dei bordi, qua ci sono destra, sinistra, su o giù per esempio se la vostra luce arriva da in alto a destra come me la immagino in questa scena potete per esempio levare, provare a vedere che succede se levo il bordo destro e il bordo superiore oppure bordo destro e bordo inferiore in questo modo magari il risultato già è qualcosa di migliore la soglia la alzo ancora un po' mi interessa più che altro che catturi semplicemente un pochino di quel senso di mattoni se sono convinto adesso vado semplicemente a rasterizzare il livello il livello è diventato un livello normale metto monocromatico, solo nero regolo un pochino quanto voglio tenere diciamo lì e questo lo prendo come punto di partenza per tutto il resto allora metto il mio storyboard in blu in maniera da poter lavorare meglio e vado a ripristinare l'immagine dietro che avevo tenuto da parte mi risposto sul livello su cui mi interessa lavorare e butto via tutta la parte che non mi serve beh magari quella lì la tengo ecco qua quindi prima di tutto butto via adesso ho la fotografia ancora sotto di riferimento e cosa faccio? con lo strumento righello righello prospettico utilizzo la prospettiva dell'immagine per andare a cercare la prospettiva quindi ho scelto lo strumento righello prospettico uso una delle righe leggibili che siano parallele nella fotografia e vado a prenderla di qua e di là ed ecco che ho una linea dell'orizzonte adesso che ho una linea dell'orizzonte questo sarà l'orizzonte anche di tutto il resto del mio disegno e in effetti corrisponde sulla linea dell'orizzonte ogni cosa è una riga orizzontale quindi vedete qua nella porta si vede chiaramente adesso vado a cercare l'altro punto prospettico siccome non è molto leggibile io di solito cosa faccio? prima di tutto vado semplicemente a mettere un punto qualsiasi qui sulla stessa riga dell'orizzonte dopodiché se con control cliccate il righello prospettico tasto destro fissa il livello visivo in questo modo l'orizzonte non si sposta e voi potete andare a cercare il vostro secondo punto di fuga con più facilità ecco qua se ce ne fosse un terzo anzi la esagero un po' di più perché sinceramente è troppo poco leggibile ecco se ce ne fosse un terzo in questa fotografia c'è un leggero punto di fuga verso il basso ma perché si vede che queste righe non sono esattamente verticali ma per questo tipo di inquadratura io non consiglio di andare a cercarlo è troppo sottile la differenza tra una riga verticale e questa mi risposto su questo livello qui metto in rosso come di solito metto i livelli degli inchiostri e adesso che ho il righello prospettico pronto vado a tracciare le parti di disegno che ovviamente nella fotografia non ci sono adesso è solo questione di pazienza ovviamente siccome ho messo il righello prospettico riesco tranquillamente a utilizzare con molta facilità gli strumenti per disegnare a mano diciamo e andare a correggere piano piano qua probabilmente ci dovrà essere una grondaia anzi facciamo la diritta se ho deciso di andare a fare adesso non è che sono liberato dal peso di dover disegnare comunque quello che devo fare però avere una guida delle righe già cominciate diciamo o soprattutto in certe zone come il muro delle righe che introducono un sufficiente rumore diciamo una parte del lavoro già fatta adesso piano piano adesso levo anche lo storyboard ah si qua ho cambiato leggermente qui ovviamente non si scappa bisogna disegnare perché il risultato dell'automatismo non è mai un granché ci può dare una mano in fase iniziale dopodiché sta a noi procedere e metterci anche la nostra mano e il nostro stile adesso questa parte del video potrebbe diventare tediosa nel senso che non faccio altro che continuare a disegnare mostro giusto un pochettino come proseguirei però qui adesso non c'è altro da fare che procedere con un normale disegno solo che abbiamo la guida della fotografia sotto che ci può aiutare sia come se fosse una matita come se qualcuno se la fotografia facesse il ruolo della matita e io vado a inchiostrare utilizzando la fotografia come riferimento adesso vedo giusto di arrivare alla fine di questa parte di questa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco qui c'è un dettaglio che ovviamente è venuto malissimo, lo butto via del tutto e lo ridisegno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho fatto un salva per abitudine. Anche questi non mi soddisfano molto. Questo qua del cespuglio invece probabilmente è utile così. Non devo fare altro che andare a giustificarlo un po' meglio. Dopodiché quando levate la fotografia da sotto a un certo punto cominciate ad avere la sensazione di come sta avvenendo e potete cominciare a non utilizzarla più, non ne avete più bisogno, è come se doveste semplicemente inchiostrare e a un certo punto cancelliate la matita. Ora si può procedere senza più l'ausilio della fotografia. La cosa interessante è che adesso che la prospettiva è stabilita è molto comoda anche per quelle parti di disegno per le quali non ho a disposizione la fotografia. Quindi per esempio Vediamo Ecco Ecco come vedete il righello prospettico mi aiuta in tutte queste situazioni qua posso inventarmi una fioriera e magari anche che ne so se c'è qualcosa come una siepe anche qui io prima procedo con delle righe molto nette fate con il righello prospettico per poi andare a cancellare e a correggere e a trasformare in qualcosa di più naturale attraverso l'uso del segno comunque insomma qui a questo punto la fotografia non c'è più e non serve più ma il punto di partenza che mi ha fornito è stato ottimo sia per la scelta della prospettiva sia per per darmi per esempio appunto questa sporcizia sul muro che è venuta molto comoda adesso se levo momentaneamente qua lo storyboard adesso posso vedere che qui per esempio è molto povero questa parte qua è venuta male la correggo sistema insomma ora ora è un mio disegno ecco e quindi si si tratta semplicemente di di farlo diventare di renderlo al meglio insomma qua potrebbe esserci ecco questa riga nera per esempio non sta molto bene la levo ed ecco qui adesso mancano i personaggi per cui dipende da dove metterò i personaggi lo andrò a finire quando faccio i personaggi però il risultato è questo a partire dalla fotografia insomma qua ho messo delle righe di legno che vedo adesso che stanno malissimo molto meglio metterle qua su scurire un po qui si adesso non riesco a fermarmi perché come al solito ogni volta che si vede quello che potrebbe essere migliorato finisco per perdermici e ci rimango comunque adesso era per farvi vedere che quello che era contenuto nell'altro video era solo ed esclusivamente un primo inizio che poi assolutamente va concluso con serietà in quello che è un disegno vero e proprio insomma ok grazie mille e alla prossima